Ma è un'ottavissima Giustina Devo scappare, dai Un sorso, dai, dai, ti voglio bene un sorso, dai C'è l'amica, come lo fai tu il caffè? Non è che lo fa nessuno E tu, niente? No, no, non è preso Dov'è che vai così di corsa? Non è in ospedale, un casino, sì Che è successo? Chi è che sta in ospedale? Un amico, è andato Mario Chi è Mario? Chi è Mario? Mario Rossi No, l'architetto Sì, l'architetto Non è possibile Non è possibile? Ma chi è amato che sta là in ospedale? Io ieri sera l'ho vista al ristorante Con una bellissima donna Eh sì, appunto, c'è il problema è che l'ha visto la moglie Guardate io Sta in crinogia plastica Dice che una sta al posto dell'orecchio Ci sentiamo